che affronterà in trasferta una sua diretta inseguitrice, Cesena. Vediamo. Dopo sei turni consecutivi di successi pieni, arriva lo scontro della verità per la edilizia Passeri Bastia, che si trova a fronteggiare in trasferta la sua più diretta inseguitrice. L'errore più grande che la squadra potrebbe commettere è quello di sentirsi già appagata dal vantaggio che ha acquisito in classifica sulla rivale Volley Club Cesena. Un rischio che la dirigenza Umbra ha cercato di esorcizzare con continui richiami alla concentrazione durante questa settimana. In effetti, anche in caso di un'eventuale sconfitta senza raccogliere punti, il collettivo bianco-azzurro resterebbe al comando della graduatoria, poiché ha tre lunghezze di margine sulla seconda piazza, occupata appunto da Cesena, in coabitazione con Porto Recanati. Il clima di euforia che ha contagiato l'ambiente sportivo bastiolo nei giorni scorsi ha però lasciato già il posto ad una completa dedizione al lavoro in palestra. Il gruppo, diretto dal tandem tecnico Gianluca Ricci e Alessandro Papini, è pienamente cosciente del valore dell'avversario da affrontare. La compagine romagnola costituisce un impegno dall'elivato coefficiente di difficoltà, in primis per la composizione della sua rosa, che è di primo livello, poi perché tra le mura amiche non perde dal 25 aprile 2010, come dire che la striscia di successi dura da oltre una stagione consecutiva.